E' un ragazzo simpatico per chi mi conosce, molto testardo e soprattutto riservato. Io adoro molto cucinare, quindi una cosa bella che avrei fatto, se mi è piaciuto gestire una cosa tutta mia come un agriturismo o un ristorante, mi piace cucinare il risotto con gli asparagi. Mi ricordo quando eravamo a scuola con i miei compagni non si faceva altro che parlare di calcio. Il mio sogno è stato sempre quello di giocare a calcio, anche se le maestre non appoggiavano questa mia scelta, una in particolare. Cercava un po' di togliere questa nostra fantasia perché nella realtà in cui siamo cresciuti era molto difficile emergere. Quindi cercavano di metterci davanti già la realtà, però alla fine i sogni si avverano. Ho iniziato come tutti i ragazzi nella scuola calcio del paese, poi mi sono trasferito alla scuola calcio della città a Potenza. Ho avuto l'opportunità di fare qualche provino e mi presero a Teramo, in Abruzzo e poi da lì ho iniziato. Il primo numero di maglie è stato il numero 11 perché all'inizio giocavo come esterno di centrocampo e nelle categorie inferiori non ci sono i nomi sulle maglie, quindi si andava per ruolo e l'esterno di centrocampo era o 7 o 11 e di solito al mancino veniva dato l'11. Il principale pregio è il tiro in porta. Come difetto è che a volte in campo ragiono più del dovuto e mi porta a sbagliare, dovrei agire molto più distinto. Ho la fortuna di avere dei compagni di squadra molto bravi, però un pregio su tutti è la scelta di tempo, gli inserimenti senza palla di Valiani e Dezzi. Non ho mai avuto un giocatore in particolare, però ho stimato molto Nedved negli anni della Juve e della Lazio. Ci sono stati un sacco di gol belli che io ricordo, però uno in particolare è stato quello di Francesco Totti in una partita a Sampdoria-Roma. Un gol a volo da posizione impossibile è stato, secondo me, un gesto tecnico incredibile. Prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti! Che grande gol! Splendido gol di Francesco Totti che firma la doppietta e chiude la partita. Splendido gol di Totti, 4 a 1. Direi il gol su punizione contro la Provercelli, mi è piaciuto un sacco. Sono del sud, però non ho mai vissuto al sud calcisticamente. Devo dire che la passione che hanno i tifosi al sud è completamente diversa dalle altre parti d'Italia. All'inizio do l'impressione di una persona poco estroversa, che sta sulle sue. Sì, sono abbastanza riservato, però poi con le persone che passo la maggior parte del tempo durante la giornata mi conoscono bene, sanno che tipo di ragazzo sono e che sono anche abbastanza simpatico. Sì, sono abbastanza riservato. Sì, sono abbastanza riservato. Sì, sono abbastanza riservato. Sì, sono abbastanza riservato. Non ho un cantante preferito in particolare, però ho sempre ascoltato gli U2 e mi piacciono un sacco. Intanto volevo ringraziare Jacopo per la nomination, perché ha dato l'opportunità di far parlare un po' di me. Venite tutti allo stadio perché abbiamo queste sette partite che sono delle finali per raggiungere il traguardo dei pre-off e quindi il vostro supporto per noi è molto importante. Forza Bari e per la prossima nomino Dennis Tonucci. Grazie. 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 Grazie.